Una bellissima iniziativa quella che si terrà lunedì 20 marzo dinnanzi al noto ristorante Brezza Marina, una degustazione di prodotti, di piatti con una nobile finalità, quella appunto di raccogliere proventi da destinare alle popolazioni di amatrice, amatrice martoriata dal sisma, dal terribile terremoto. Siamo con l'avvocato Gina Lupo, consigliere di parità della provincia di Taranto e nonché madrina dell'evento. Abbiamo notato il garbo istituzionale per così dire con cui lei, essendo assessore di missionario, ha voluto partecipare alla conferenza stampa ma non in veste di assessore ma appunto di persona libera e innanzitutto di madrina. Ma parliamo di questo evento. Io ricordo sempre una bellissima espressione di Raul Folero, il quale diceva che nessuno ha il diritto di vivere felice da solo. Ecco, la condivisione con chi soffre. Beh sì, è stato e da mesi che avevo raccolto l'invito degli amici dell'Ion Host con cui da assessore avevo cominciato una stretta collaborazione perché io credo che sia importante rapportarci alle realtà che da anni vivono nel nostro territorio e fanno beneficenza e sono sensibili alle problematiche. avevano avuto un'intenzione di creare questa serata per amatrice, con la famosa amatriciana, per amatrice che avremmo dovuto fare a gennaio. Poi il tempo inclemente con la neve, se ricordate, intorno al 7-8 gennaio ci aveva consigliato di aspettare dei tempi miti. Quindi l'abbiamo rinviata, come hai detto bene, a lunedì 20 marzo. Beh, penso che ho dimostrato il mio aplomb, anche la mia eleganza istituzionale, precisando a voi giornalisti che ero l'avvocato Ginalupo, anche se sono, come hai detto bene, consigliere di parità, per cui sono madrina e ho sposato questa iniziativa. Ma giusto per non far risentire qualcuno, Luigi, di questo. Sì, io invito tutti i cittadini a venire lunedì sera davanti al ristorante Brezza Marina, dove ci sarà la degustazione di un'ottima amatriciana, un buon calice di vino, altri prodotti locali. Credo che ci siano delle mozzarella e ricavato, perché l'offerta sarà libera e sarà devoluto proprio al sindaco di Amatrice. È una serie di eventi pro-matrice che l'Aionosta hanno posto in essere, questo lo voglio ricordare. E permettimi di segnalare che proprio mettendo questo post su Facebook, a volte demonizziamo l'uso dei social, invece è molto importante. Sono stata contattata da un fotoreporter che si chiama Roberto Pedron, che ha girato dei filmati sui luoghi del terremoto e si è offerto in maniera spontanea, gratuita, assolutamente gratuita, di mostrarli nella serata di lunedì venti. Io l'ho ringraziato, l'abbiamo subito catturato e quindi lunedì sera avremo anche queste immagini che sono state girate sul posto. Dico, ci tengo a dire, che abbiamo volutamente basato su una rinascita dell'amatriciana, perché Amatrice ci tiene molto a far sì che le sue industrie, che danno da lavorare a tantissimi cittadini di Amatrice e anche luoghi vicini, le varie fattorie, le varie masserie di quella zona, non scompaglia. Quindi invece di fare giocattoli o regali in questo modo, il sindaco ci aveva chiesto proprio di fare in modo che noi cittadini delle altre regioni, delle altre città, comprassimo i loro prodotti. Quindi ritengo vincente l'idea dell'Ion Host di creare, di offrire ai miei cittadini una buona amatriciana, perché almeno il cittadino gusterà un buon piatto lunedì sera in compagnia di amici, ma avrà la possibilità anche di fare una bella azione di generosità. Un bel ponte, un ponte di solidarietà tra Taranto ed Amatrice. Assolutamente sì, vi aspetto, quindi vi aspetto lunedì sera a partire dalle 19, nello spazio antistante Ristorante Brezza Marina, che ha collaborato con noi per questo evento, per gustare tutti... Via d'Aquino in fondo verso il ponte, per capirci. Assolutamente sì, via d'Aquino in fondo verso il ponte, saremo lì sul marciapiede, l'Iristorante ha messo a disposizione i suoi cuochi e i suoi chef, e quindi tutti quanti per fare qualcosa di buono per i nostri appunto connazionali, così duramente colpiti.